sei venuto a salvare il mondo eh? tu sai che sei un cazzo di eroe basta sciacchiere alimentazione secondaria lanciarazzi attivata, sequenza lancio avviata alimentazione secondaria lanciarazzi attivata, sequenza lancio avviata ora mi stai facendo incazzare, puoi proprio scordarti la morte dell'orzento a un agente serve aiuto agente a terra richiesta assistenza medica immediata grazie a tutti 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 Mi Verna, fai rapporto. Mi Verna, rispondi. Mi Verna, cazzo. I cilindri di antivirale sono al sicuro. Faremo in modo che vengano estratti senza proteine. Signore, ci sono degli elicotteri nemici in arrivo. Dobbiamo abbatterli? Negativo, non sparate. Non dobbiamo coltire i cilindri. Beh, un colpo di fortuna. Agente, hai recuperato gli antivirali e neutralizzato una roccaforte chiave dei Black Tusk. Senza contare che hai sventato un attacco missilistico alla base operativa. Gran bel lavoro, agente. Davvero magnifico. Ma c'è ancora molto da fare.